La crisi economica ha portato la regione toscana a svolgere un ruolo di mediatrice nelle vertenze aziendali, a mettere a punto azioni di sostegno delle aree maggiormente colpite, nonché una serie di incentivi, percorsi e strategie per chi è alla ricerca di un lavoro, a partire dai giovani o per la riqualificazione e il reinserimento di chi lo ha perso. Altri interventi hanno invece riguardato il mondo della scuola, come il contrasto dell'abbandono scolastico e il diritto allo studio, i NIT, ovvero i giovani che non studiano né lavorano, e infine la fascia delicatissima dei bambini da 0 a 6 anni. Ne parliamo con l'assessore all'istruzione alla formazione Cristina Grieco. Questo è un provvedimento che abbiamo voluto come regione toscana per inserirlo in tutto un pacchetto che riguarda l'integrazione lavorativa e sociale. Questo piano prevede tre tipi di interventi. La parte centrale naturalmente è la politica attiva, quindi un percorso che il disoccupato, che è rimasto privo di ogni sostegno al reddito, quindi che ha terminato gli ammortizzatori sociali, un percorso di riavvicinamento al mercato del lavoro. Però a fianco di questa anche un'indennità di partecipazione di 500 euro mensili per sei mesi, per permettere appunto un accompagnamento e un sostegno al lavoratore disoccupato. E terza parte un incentivo al nuovo impiego, un incentivo all'occupazione al termine del percorso lavorativo. Quindi è un provvedimento composito che ci sono 30 milioni di risorse da destinare, il 70% di queste andrà alle aree di crisi, sia quelle a livello nazionale che quelle regionali. Quindi 21 milioni sulle aree di crisi e 9 milioni sul resto del territorio toscano. L'assegno di ricollocazione sta arrivando a livello nazionale al termine della fase di sperimentazione. I risultati non sono esaltanti a livello nazionale perché ci dicono che in media hanno risposto il 10% degli aventi diritto, insomma dei contattati. Quindi naturalmente ci saranno da mettere a punto gli aspetti di criticità per migliorare il funzionamento di questo importante strumento, quello principale di politica attiva. Noi in Toscana però abbiamo sperimentato un nostro modello che prevede un voucher formativo e un percorso di ricollocazione successivo con il riconoscimento dell'intero importo di finanziamento solo in base al successo dell'assunzione. Quindi in base intanto all'esito positivo o negativo della riassunzione e poi anche al tipo di occupazione naturalmente prevedendo un importo più alto per i tempi indeterminati e via via decrescere per forme meno stabili di lavoro. Non è presente a tutti i tavoli di crisi con il consigliere Gianfranco Simoncini che segue i tavoli in maniera trasversale per l'assessorato al lavoro e per quello alle attività produttive. Ce ne sono molti aperti però qualche crisi viene anche risolta positivamente. Quindi è un ruolo essenziale. Purtroppo non si può arrivare sempre all'esito che sarebbe auspicabile, cioè quello di risolvere la crisi, ma si cerca di mettere a disposizione tutti gli strumenti che la regione Toscana può attivare internamente e anche in relazione al ruolo che la Toscana ha in conferenza delle regioni, perché noi abbiamo il coordinamento, per dare le risposte migliori. E quindi insomma anche qui un lavoro importante, pesante, ma a volte anche di grande soddisfazione. Noi siamo stati i primi e questo ci viene veramente riconosciuto anche a livello nazionale ad equiparare i giovani professionisti e i giovani imprenditori. Quindi abbiamo fatto dei voucher formativi, diversi bandi, proprio per venire incontro a questa forma di lavoro autonomo che ormai non è più solo riferibile esclusivamente alle professioni ordinistiche, ma anche a quelle che non sono contemplate da albi ordini professionali. E quindi insomma questa è stata una misura molto apprezzata e a cui molti giovani hanno fatto ricorso. Sui tirocini diciamo che ormai possiamo anche fare un bilancio e un bilancio anche scientifico perché IRPET ha fatto una valutazione, un monitoraggio dicendoci che in realtà laddove questa misura esperienziale sia stata portata a termine le chance per l'occupabilità dei giovani sono aumentate notevolmente. Quindi non è assolutamente una misura da demonizzare in assoluto, però abbiamo anche voluto cercare di stringere un po' il canale per evitare gli abusi. Quindi noi adesso andiamo a finanziare solo i tirocini per quei giovani che abbiano finito il percorso di studi da non più di 24 mesi, quindi nei due anni successivi al diploma o alla laurea. Abbiamo intenzione di fare un protocollo con l'INAIL proprio per rafforzare i controlli soprattutto in quei settori che sono più a rischio di uso improprio dello strumento. Quindi tirocini sì, ma tirocini veri che siano un'opportunità per i ragazzi e non una sostituzione di lavoro o uno sfruttamento di giovani perché di questo proprio non abbiamo bisogno. Qui abbiamo fatto tante azioni in maniera trasversale ed integrata con l'assessorato del collega Remaschi, quindi con l'agricoltura. Abbiamo fatto, e anche questo è già arrivato a termine, un corso per giovani che avevano abbandonato il percorso di studi e l'abbiamo chiamato appunto formazione per contadini, così un po' come la trasmissione televisiva che ha avuto un successo strepitoso perché i ragazzi che si erano allontanati dai percorsi di istruzione o di formazione si sono appassionati a questo settore e l'80% ha trovato poi occupazione dopo la fine del corso. Quindi vogliamo continuare su questa strada perché il settore dell'agricoltura è un settore strategico per la regione toscana. Noi abbiamo un piano regionale di sviluppo molto schematico con degli obiettivi anche numerici che sono verificabili e per la delega riguardo all'istruzione noi avevamo uno dei punti principali del programma appunto che riguardava la diminuzione della dispersione scolastica. Ecco, a metà mandato possiamo dire che da questo punto di vista i risultati sono veramente incoraggianti perché qualche anno fa noi avevamo un tasso di dispersione in linea con quello nazionale, partivamo dal 17,6%, oggi quindi nel 2016 è all'11,5%, quindi abbiamo riportato la toscana in media europea perché l'obiettivo per il 2020 europeo è arrivare al 10% ma il tasso medio in Europa è 11 e qualcosa. Quindi insomma questo ci rende veramente molto soddisfatti, certo sapendo che dobbiamo continuare su questa strada, però insomma è un risultato assolutamente apprezzabile. Altro indice che siamo riusciti a migliorare notevolmente è l'indice sui NIT, quindi su quei giovani dai 18 ai 25 anni che non studiano, non lavorano, cioè sono fuori da ogni percorso di crescita. Anche qui negli ultimi due anni, quindi dal 2014 al 2016, questo tasso si è abbassato dal 20,3% al 18%, quindi può sembrare poco ma è veramente un indice che vuol dire che siamo riusciti a recuperare in percorsi formativi o in percorsi lavorativi un bel numero di giovani. Un altro impegno che personalmente mi ero presa e avevo impegnato tutta la Giunta a lavorare in questo senso era quello di anticipare l'erogazione dei fondi per il diritto allo studio, quindi per l'acquisto dei libri di testo alle scuole medie e superiori, perché da donna di scuola ritenevo veramente grave che le famiglie ricevessero questi finanziamenti al termine dell'anno scolastico. Bene, abbiamo, devo dire, con un grandissimo lavoro degli uffici, però siamo riusciti a modificare le procedure. L'anno scorso siamo riusciti a pagare a febbraio invece che appunto a luglio-agosto, quest'anno siamo riusciti a pagare a novembre. L'impegno per l'anno prossimo è di riuscire a erogare i fondi proprio nel primo mese dell'attività scolastica, quindi a settembre-ottobre, perché è giusto che le famiglie che sono in difficoltà abbiano questi finanziamenti in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico. È stato approvato il piano nazionale per lo 06 appunto, che porterà in Toscana per quest'anno nel 2017 quasi 14 milioni di euro, che si vanno ad aggiungere agli investimenti importanti che la Regione fa già in questo settore. Quindi questo vuol dire che noi abbiamo fatto come Regione Toscana un'opera di programmazione andando a destinare tutti questi soldi che riceveranno a brevissimo nei prossimi giorni i comuni alla riduzione delle rette. Quindi abbiamo fatto un'opera molto apprezzata anche da livello nazionale perché in pratica le famiglie avranno una riduzione dei costi al loro carico per i nidi, soprattutto perché ormai la scuola d'infanzia è generalizzata. Quindi più posti, questo era l'obiettivo nazionale, e rette più basse. Siccome noi siamo già molto virtuosi perché abbiamo già quasi oltre il 35% di bambini che vanno al nido, abbiamo deciso di destinare tutto alla riduzione delle rette dei nidi. Quindi risultati sicuramente apprezzabili.